34 giorni dopo l'ultima gara giocata torna in campo la Vastese che ospita lo Stadio Aragona per il recupero della sesta giornata di andata l'Agnonese Fanalino di Coda. 3-5-2 per Massimo Silva che posiziona Diallo come braccetto della difesa 3. Calabrese a centrocampo a fare da collante con il reparto avanzato formato da Martigniello e Sorgente al rientro dopo le tre giornate di squalifica. 4-4-2 per Stefano Sinigalliesi tecnico degli Altomolisani che schiera in campo i nuovi Maelvan e Mumba e l'ex della gara Montanaro. Si gioca a porte chiuse e dirige l'incontro greco di Ascoli Piceno. La gara degli Aragonesi parte subito in salita. Passaggio all'indietro sanguinoso di Gentile con Cardinale che recupera bene su Mumba ma per il direttore di gara l'intervento è falloso e concede il calcio di rigore per gli Altomolisani. Sul discreto si presenta lo stesso attaccante che spiazza a Bazzi per il primo gol stagionale del nuovo attaccante Granata. Faticano i biancorossi a carburare anche storditi dall'avvio arrembante dei Granata ma al quindicesimo è la vastesa a chiedere il calcio di rigore per un presunto tocco di mano ravvicinato su conclusione di Calabrese. Ma in questa occasione fa continuare il direttore di gara. Buon momento per i biancorossi che si producono in una nuova proiezione offensiva al ventiquattresimo ma la Volè in aria di rigore disorgente impeccato da Valerio finisce sopra la traversa. Sembra aver cambiato passo la vastese ma al trentunesimo ancora un errore difensivo spiana la strada al raddoppio molisano. Diallo appoggia male in mezzo al campo con Maniscalchi che salta Valerio e mette dentro per Mumba che di testa mette alle spalle di Abbazzi. Si mette male per l'avastese che a questo punto si proietta in avanti recriminando nuovamente al trentanovesimo quando ad andare a terra in aria di rigore Martigniello ma anche in questo caso si continua a giocare. Il rigore però arriva sul finale di primo tempo quando Valerio sbuca alle spalle di Montanaro e viene atterrato dal portiere Landi. Dagli undici metri si presenta Martigniello che con estrema freddezza spiazza Landi. Nella ripresa stessi 22 in campo con l'avastese subito in avanti all'ottavo quando dagli sviluppi di calcio d'angolo tocco di mano Galeotto in aria di rigore con il direttore di gara che concede il rigore dal dischetto calabrese agguanta il pareggio. Ora l'avastese ci crede e si proietta costantemente in avanti al diciottesimo all'occasione per trovare la rete ripartenza centrocampo di calabrese che mette in movimento Martigniello ma il numero 11 di casa prova la conclusione da lontano debole e centrale per impensierire Landi. Un minuto dopo ancora avastese con Obodo che dalla distanza prima finta il destro e poi va alla conclusione con il mancino chiamando alla risposta l'estremo ospite bravo poi a rispondere anche alla successiva conclusione di Gentile. Complice la stanchezza al 39esimo ci prova per la prima volta in questa ripresa anche l'agnonese ancora con Mumba ma il tiro è debole e centrale negli ultimi minuti a farla da padrone la stanchezza che non permette le due squadre di imbastire azioni pericolose in avanti. Dopo quattro minuti di recupero finisce 2 a 2 allo stadio Aragona di Vasto con la squadra di Silva che può recriminare per delle disattenzioni difensive che ne hanno compromesso il risultato domenica prossima Covid permettendo vastese ancora in campo contro l'Aprilia per il recupero della quinta giornata. Abbiamo bisogno di morale siamo partiti con grande difficoltà e ci abbiamo messo tempo però adesso siamo una squadra che ha ancora delle difficoltà però siamo una squadra una squadra che sta sul campo che ci sa stare che comunque sa dove deve lottare dove si può giocare. Il primo tempo il fatto di essere passati in vantaggio così presto comunque ha condizionato l'andamento della partita perché loro si sono riversati noi abbiamo preso un po' di paura a mio parere e questo è normale vista la classifica nel secondo tempo invece nel momento che pensavo andassimo più in difficoltà incredibilmente a mio parere abbiamo fatto meglio. Hai detto bene però hanno fatto un'azione primo tempo due gol noi che hanno fatto due azioni due gol un'azione hanno fatto due gol e già quella è una cosa strana però abbiamo speccato poi tante energie però un plauso ai ragazzi da 2 a 0 rimontare non abbiamo mai mollato nonostante un mese che non facciamo partite ma non ufficiali non facciamo partite neanche fra di noi e quindi da quel lato un plauso. Mi spiace che queste partite capitano sempre in momenti particolari però il calcio di questo momento è questo e bisogna accettare andare avanti. Peccato i due episodi lì del primo tempo però abbiamo fatto molto bene creando grandi occasioni devo dire quelli davanti si sono mossi bene ho scelto un modulo diverso.